Premera a chiedere dei contributi per l'alluvione, ma ha detto che i soldi non ce ne sono. Beh, questo è tutto da dimostrare. Abbiamo già redatto un primo dossier che ho inviato proprio questa mattina a tutti i parlamentari del Veneto. La prima cifra, che sarà sicuramente poi più alta, ipotizzata, è di 500 milioni di euro, più di 130 comuni e la necessità di fare veloci, perché abbiamo danni da nord a sud, da est a ovest del Veneto. Dall'opposizione dicono che lei continua a rimandare la palla ad altri, invece c'è anche una responsabilità della regione e la regione potrebbe dare dei contributi. Guardi, la regione ha già stanziato 2 milioni di euro proprio oggi in giunta. Dico anche che la stessa opposizione che oggi dice queste cose, nel 2010, siccome il governo era mio amico, cioè era del mio colore politico, diceva vai a Roma dai tuoi a battere cassa, basta che si mettano d'accordo tra di loro. Ma è una questione anche politica a questo punto o è una questione poi di fatto da fare? Guardi, io lascerei fuori la politica da queste partite. I cittadini alluvionati hanno solo un pensiero, che è quello di recuperare la vita normale. Se qualcuno vuole far politica sull'alluvione si sbaglia di grosso perché non troverà fronte. Sui contributi assicurativi? Beh, io ho sempre chiesto con gran forza già dal 2010 che vi sia un'assicurazione a livello nazionale, il che ci permetterebbe di creare anche una sorta di mutua virtuosa, di mutualità virtuosa affinché tutti pagando pochissimo possano avere però riconosciuti i danni qualora vi fossero le catastrofi. Ricordo che i danni a livello nazionale delle calamità ogni anno montano a circa 2 miliardi e mezzo di euro. Mezzo miliardo dice l'intervento di prima necessità per l'alluvione. Quanto sarà quello che potrà dare la Regione e inserire all'interno del bilancio 2014 che ancora si attende? Noi nel bilancio cercheremo di fare il possibile, però è una goccia d'acqua in un mare in tempesta nel senso che dopo aver lasciato 21 miliardi di tasse a Roma ce ne restano pochi a casa per cui non vorrei mai trovarmi nella condizione di dover veramente arrabbiarmi perché da un lato versiamo 21 miliardi di tasse e dall'altro i nostri veneti restano ancora in mezzo al fango all'acqua. La sponda la facciamo con tutti, guardate, io penso che ci siano dei momenti, dei contesti nei quali la politica deve restare fuori e quello delle catastrofi è uno di quello. Penso che sia volontà da parte di tutti, iniziare dal Ministro fino all'ultimo parlamentare, a me sono concesso che esista l'ultimo parlamentare, di portare a casa risorse per i veneti. Io ho l'onere e anche l'onore di difendere le istanze dei veneti e lo farò fino in fondo. Nelle altre trevigiane sono ancora in emergenza, c'è un problema di falde acquifere che non si svuotano e sono ancora sott'acqua. Questa è la partita triste di questa alluvione che è atipica come catastrofe, come avversità atmosferica. Ricordo anche che abbiamo oltre tre metri di neve in montagna che prima o poi ci scioglierà e scenderà lungo i fiumi, andrà a rimpolpare le falde che sono già molto piene, per cui è una alluvione che avrà sicuramente una coda terribile anche come danni riflessi.